Che compagni siete? All'Italia. E Ritaly? Ernest. Perché unite insieme? Perché noi siamo tutta una famiglia, c'è questo momento drammatico che comunque appartiene a tutti, quindi massima solidarietà. Un intervento tempestivo del governo, tempestivo perché se no noi siamo morti, noi proprio siamo morti come compagnia, come regione, perché io sono sarda, quindi noi saremo completamente isolati nella nostra isola. Beh, guarda, è veramente molto elementare. La crisi dura da diversi anni ed è iniziata con l'acquisizione di due compagnie aeree, quindi ben due compagnie aeree fallite. Adesso non ricordo esattamente, ma comunque... Non ve l'aspettavate voi? Sono ragionamenti che voi facevate tra di voi, tra i colleghi? Non ci aspettavamo la liquidazione vera e propria, non ci aspettavamo niente di buono. Sono spiccate le compagnie estere e non quelle italiane, questo è un dispiacere perché siamo tutti qua, siamo giovani e vogliamo lavorare in Italia. In più ci sono tantissime persone che hanno famiglie, figli e non è giusto, perché non è giusto, cioè non è giusto che i ragazzi di vent'anni vanno all'estero, non è giusto. Malato, perché è malato? Perché? Perché sono in rianimazione, mi devono dare ossigeno, ci devono dare ossigeno a tutti quanti. Mai ci aspettavamo una liquidazione così in un minuto, ci hanno liquidato con un consiglio che è durato 25 minuti tra di loro e ci hanno mandato una mail di liquidazione e oltre danno anche alla Beffa ringraziandoci per quello che abbiamo fatto, per il supporto dato all'azienda. Quindi veramente presi in giro fino alla fine, alle 14.42 dell'11 febbraio c'è cascato il mondo addosso.